Big Data sono le tracce digitali che lasciamo in giro dietro di noi interagendo con le piattaforme digitali, carte di credito, cellulari, piattaforme social, sensori che indossiamo, quindi sono piccoli bid di informazione che però messi insieme ci consentono di costruire a livello di popolazione, a livello di società una visione aggregata ma molto granulare che ci permette di esplorare nel tempo e nello spazio le caratteristiche della società e delle persone, come interagiscono fra di loro e questo ci abilita alla costruzione di nuovi modelli, modelli matematici, modelli predittivi che possono in ultima analisi migliorare e aiutare come le persone vivono e interagiscono fra di loro nella società. Grazie